Uè Gobbe, anche il Milan se ne va, anche il Milan ti saluta, Gobbo, anche il Milan va via, Gobbo, sì, anche il Milan ti saluta, ciao, Pioli che ti saluta, due squadracce, se la stanno contendendo, bravi, mi state piacendo, ve la state contendendo bene dietro lì, una bella lotta, bravi, bravi, attento che c'è, attento che c'è il Consul, però a cinque punti dietro ce l'hai, Tiago Motta, cinque, un altro sgarrettino, Gobbo, anche il Milan, e se ne va il Milan, il Cor, ma ancora non è finito, tu devi arrivare, Gobbo, devi arrivare dall'Inter 30 punti, io voglio i meno 30, capito, voglio, i meno 30 voglio io. Teo, Teo sei un coglione Teo, mamma mia, che squadraccia, che calciatori, ma io faccio sempre così, e non lo devi fare Pirla, adesso la prossima non ci sei, Megnan pure si è fatto male, adesso, con chi devi giocare la prossima, e non lo so con chi devi giocare, ma io faccio sempre così, e non si fa, non si fa, mamma mia che calcio, Speriamo che almeno stasera l'Inter ci fa vedere qualcosa, perché guarda, guardare le partite, comunque al Verona gli voglio fare un applauso, secondo tempo, a parte i contropiedi, però, cioè, se l'è giocata, se l'è giocata, bravi, se l'è giocata, se l'è giocata, bene, bene, Megnan si è fatto male, spiassa, spiassa.